Anche lo sport cerca, con attenzione e grande disponibilità, di dare il proprio contributo alla causa di profughi che stanno lasciando un'Ucraina martoriata dai bombardamenti russi. Non solo attraverso la raccolta di beni di prima necessità, ma anche attraverso l'allestimento di iniziative e momenti che possono in qualche modo far dimenticare per qualche istante gli errori dovuti alla guerra. In questo contesto si inserisce perfettamente il progetto Uniti in Campo per l'Ucraina, portato avanti da Riva Castelvolley, società di pallavolo nata solo nel 2021 dalla collaborazione tra due realtà territoriali importanti come Riva Rolo Volley e Pallavolo Castlamonte, che ha deciso di non restare a guardare mettendosi a disposizione. Come? Permettendo ai giovani che arrivano dall'Ucraina e che sono ospiti sul territorio canavesano di partecipare a dei corsi di pallavolo, dando loro il kit necessario anche al fine di trascorrere qualche ora di spensialatezza nel tentativo di far vivere loro per quanto possibile un po' di normalità. La speranza nostra è che il conflitto finisca presto e si possa tornare davvero a vivere in maniera più serena, spiega Massimo Brunelli, portavoce e una delle colonne del Riva Castelvolley. È un piccolo gesto, ma pensiamo che possa essere un buon viatico per quei ragazzi e quelle ragazze che hanno voglia di socializzare e di trascorrere dei momenti anche di allegria. Sin da subito è arrivata un'adesione, ma in questi giorni sono giunte sul tavolo delle segretarie del club canavesano ulteriori richieste.